Siamo entrati nel grande mondo dei sistemi esperti più o meno sette anni fa per una commessa importante che richiedeva la creazione di una configurazione di sistemi molto complessi in particolare nell'ambito dei metanodotti quindi la trasmissione del gas. L'utilizzo dei sistemi esperti è una scelta innanzitutto di tipo tecnologica dopodiché dal punto di vista organizzativo, una scelta importante dal punto di vista organizzativo perché consente di prendere le esperienze quindi le conoscenze di un esperto del settore e di convertirle in elementi computazionabili da uno sistema software. Noi facciamo sistemi software non necessariamente dobbiamo diventare esperti del dominio che andiamo ad affrontare, l'utilizzo dei sistemi esperti facilita fortemente la creazione di sistemi efficaci che prendono un know-how complesso e lo convertano in domande oppure in interazioni utente particolarmente semplici perché proprio il configuratore di prodotto da letteratura è una delle prime applicazioni che richiede una forte esperienza da parte appunto degli esperti del dominio. Configurare un prodotto o costruire un prodotto software che permetta la configurazione dei prodotti in modo generale necessita una conoscenza del prodotto che a volte è troppo complicato da inserire all'interno del linguaggio di programmazione standard. Un sistema esperto invece consente fortemente di semplificare l'approccio alla vendita del progetto e anche alla realizzazione stessa del progetto presso clienti che abbiano una struttura complicata. Quindi un configuratore di prodotto come l'abbiamo costruito noi può configurare qualunque tipologia di prodotto e può prendere esperienza da qualunque tipologia di problematica quindi da tutta la conoscenza dell'azienda. Quindi diciamo che ci siamo appoggiati alla letteratura legata all'ingegneria del software e abbiamo convertito quelle che sono semplicemente degli approcci in software utilizzabile sia dall'utente sia dai sistemi del cliente. Qualunque azienda che abbia dei cataloghi o vasti o complessi può essere aiutata da un configuratore di prodotto. Quindi se l'utente finale, il cliente finale, deve dover scegliere tra un numero elevato di prodotti, il configuratore di prodotto aiuta moltissimo nel scegliere qual è il prodotto corretto in base alle esigenze. Oppure nel caso in cui il cliente debba poter scegliere tra i prodotti e anche dimensionarli, quindi definire quelle che sono le caratteristiche di funzionamento del prodotto e ha bisogno di un aiuto di tipo tecnico per scegliere, per configurare e quindi per dimensionare il prodotto, il configuratore di prodotto diventa effettivamente efficace. Riducendo che cosa? Il time to market e rendendo molto più flessibile il rapporto stesso tra il fornitore del prodotto e il cliente perché il configuratore di prodotto nasce per crescere con la competenza stessa dell'esperto e quindi può essere istruito successivamente con conoscenze che crescono in base alla complessità stessa del prodotto. La possibilità di estendere le funzioni di un configuratore di prodotto integrandolo con funzioni di CRM e quindi di generazione degli ordini o portali aziendali. La possibilità di fruirlo su sistemi in mobilità di ultima generazione permette di vedere il configuratore di prodotto come un tassello fondamentale per definire tutta la relazione con il cliente. Il configuratore di prodotto inoltre ha la possibilità di essere applicato sia come strumento di vendita sia come strumento di progettazione, quindi non è necessario che ci sia un cliente che utilizza il prodotto ma molti studi di progettazione possono utilizzare regole condivise per configurare pezzi più o meno standard velocizzando moltissimo quelle che sono i tempi di realizzazione di impianti o di progetti nuovi. Nella nostra esperienza ci siamo resi conto che questo tipo di applicazione può essere utile per vari ambiti aziendali. Vanno appunto dalla configurazione di prodotti di tipo industriale passando per l'health care oppure integrandosi direttamente con sistemi per ad esempio la configurazione di assicurazioni, quindi i settori sui quali questi tipi di applicazioni possono essere applicati sono i più vasti. Come si sceglie quando utilizzare un sistema esperto piuttosto che altre applicazioni? Quando appunto l'esperto del dominio è esterno al gruppo di sviluppo, quindi noi non vogliamo creare degli sviluppatori che conoscano tutte le problematiche ma vogliamo fare in modo che il cliente possa essere autonomo nell'istruire il sistema in modo che esso stesso cresca con le complessità dei problemi che il cliente deve affrontare. I benefici fondamentali sono il rispetto del know-how aziendale e soprattutto la standardizzazione della modalità con la quale il know-how viene passato ad altri utenti. Noi sappiamo che in molte aziende la conoscenza della configurazione è in sito in alcune teste particolari dell'organizzazione aziendale. Estrarre da queste persone le competenze per tutti quelli che sono i processi di configurazione standard e convertirli in applicazioni consente di avere un know-how in crescita e soprattutto condiviso. Dall'altro si consente anche di avere un sistema centrale che diventa veramente centrale rispetto a tutti gli altri sistemi dell'azienda in quanto integrandolo con sistemi B2B, con sistemi gestionali, con portali si ha la garanzia del fatto che tutto ciò che ha a che fare con il prodotto o con il servizio che il cliente fornisce sia certificato da come l'azienda vuole che questi servizi o questi prodotti vengano o venduti o fruiti dal cliente finale. Altri benefici fondamentali sono che esattamente come il configuratore di prodotto, in questo caso DeClaro, può essere considerato come centrale sul resto dei sistemi, estendere le sue funzioni verso il CPQ, quindi attraverso l'utilizzo di moduli che sono più vicini al CRM e alla gestione quindi dell'anagrafico dei clienti fino alla gestione del flusso ordini, consente di standardizzare tutto il processo di relazione con il cliente, fino alla creazione di portali specifici per il cliente che facilitano enormemente l'accesso al listino del cliente. Altri benefici importanti si riscontrano fondamentalmente nel caso in cui i cataloghi del cliente siano o vasti o complessi, è difficile scegliere qual è il prodotto migliore all'interno di un certo tipo di applicazione e il configuratore di prodotto apre direttamente la possibilità di scelta anche a utenti non esperti. Il prodotto è complesso e ha delle criteri, necessita dei criteri di dimensionamento del prodotto quindi non solo la scelta di accessori ma anche la definizione delle portate piuttosto che delle capacità di questo prodotto e il configuratore di prodotto nasce apposta per questo. Non tutte le problematiche in particolare nell'ambito della progettazione possono essere espresse attraverso regole di tipo deterministico. L'intelligenza artificiale, in particolare i motori di machine learning, cominciano ad aprire delle possibilità di apprendimento che consentono di utilizzare dei dati storici per trasformarli poi in dati azionabili quindi in scelte azionabili che possono consigliare nell'ambito della progettazione della scelta del prodotto. MIT sta affrontando una serie di progetti di ricerca che si spingeranno verso l'integrazione del nostro configuratore di prodotto con il consiglio di soluzioni prendendo quella che è l'esperienza nel tempo di altre tipologie di di soluzioni che già il cliente ha fornito al mercato. Quindi stiamo parlando di machine learning applicato alle distinte basi. Altre tipologie di algoritmi che stiamo applicando sono nell'ambito della vision computing per determinare le richieste da parte del cliente che vengano espresse attraverso dei disegni in 2D o 3D. Quindi comprendere che una richiesta di un cliente è simile ad un altro cliente, alla richiesta di un altro cliente permette di dare valore a un know-how, ad un'esperienza e a progetti già eseguiti. Crediamo che sia il momento giusto di affrontare alcune problematiche nell'ambito B2B utilizzando il machine learning perché cominciano ad essere anche fruibili una serie di algoritmi e di piattaforme fornite dai grandi vendor che consentono di avere dei costi bassi nell'applicazione di queste tipologie di tecnologie dove l'unico vero problema da risolvere è capire quali soluzioni si possono veramente risolvere. Qualche idea cominciamo ad averla.